Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio primo video del canale Gigi Master, io mi chiamo Luigi, però voi mi conoscerete come Gigi Master Intanto ho già sparato gli zombie Oggi vi insegnerò come fare l'Iron Golem, lo Snow Golem e il Wither E il mio fratello vi farà vedere il portale del Nether Allora, cominciamo con l'Iron Golem, si fa così Invece il portale del Nether Vabbè, guardiamo prima il portale del Nether Si fa con 4 blocchi sotto e con 5 sopra Nei giornalamenti si potrebbe fare anche di dimensioni maggiori Tipo, non lo so, 7 blocchi sotto e 10 sopra Però dovete sempre mantenere il limite Allora, intanto l'Iron Golem si fa così Guardate Eccolo qui Adesso lo Snow Golem È molto forte l'Eron Golem È il move più forte di Minecraft No, è il terzo Vabbè, scusami Lo Snow Golem, che è anche forte, però di sicuro non ha la sua stessa forza Però vi allentrano i nemici Comunque se toglierete un blocco dal portale del Nether Non accadrà niente Simone lo fa così per farlo sempre più cattivo No, dico, si disattiva il portale Ma invece se lo mettete agli angoli Se lo togliete agli angoli non succedete Allora, adesso il mob più forte di Minecraft Il Wither Praticamente si fa con la sabbia delle annie Che si può trovare solo nel Nether Lo Snow Golem Comunque per combattere l'angelo delle palle di neve Eh Mamma mia, i pigmen Allora, dovete mettere tre teste di schede di pigmen Eccolo qui, si sta generando Attenzione, questo qua creerà un danno Intanto lo... Vole ucciderlo Vole male intanto Eccolo qui, ha già ucciso Fa danni devastanti Allora, ragazzi Ragazzi Se volete vedere anche come si fa il portale dell'end Arriviamo a 25 mi piace Intanto, se vuole per sbaglio, è uscito dal server Invece, se vogliamo Invece Se volete che facciamo una survival map Arriviamo invece a 5 mi piace Non è uscito dal server È entrato nel Nether Ah, è entrato nel Nether Non me ne era d'accordo Bene Ragazzi E ci vediamo prossimamente con un nuovo video Ciao